Quasi un trentennio di esperienza in contesti nazionali ed esteri e numerosi incarichi vi resto aziende ed enti pubblici è stato anche il direttore marketing del Lecce negli anni della promozione in Serie A. Lui è Roberto De Donno, esperto di marketing e comunicazione. Questa mattina ha parlato agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Oggi sono qui a Gela e sono molto felice presso l'Istituto dove ho avuto l'opportunità di conoscere sia i docenti ma ancora di più gli imprenditori che hanno creduto a questa grande opportunità che gli si sta offrendo sull'alternanza scuola-lavoro. Questo al mio modesto avviso è l'unico strumento che possa dare ai ragazzi per poter entrare, conoscere, valutare, analizzare e prevedere se quello che loro andranno a fare come lavoro è quello che loro amano. Ho lavorato molto nella giornata di ieri su scegliere con passione, con amore il lavoro. È inaudito oggi poter fare dei lavori che non si amano, perché questo è quello che noi diciamo sempre. Scegli la tua professione, devi professare, devi amare quello che tu fai. Poi abbiamo lavorato sulle competenze e le competenze sono molto importanti. Non abbiamo lavorato solamente su quelle classiche, quindi imparare le lingue, la parte informatica, dove oggi sono loro molto bravi. Ma abbiamo lavorato su quali sono le professioni che oggi, scherzando io ho detto, nel 2023 non ci saranno più. Quindi dobbiamo essere bravi noi esterni ad aiutare questi ragazzi a scegliere, ad indirizzare, ad individuare quali sono i nuovi mestieri che le aziende locali stanno scegliendo. Ho ascoltato dei professori, devo dire che sono molto felice della giornata, che hanno scelto per i ragazzi, chiamiamoli stagi, dell'individuazione delle aziende, che hanno portato a lavorare fuori da Gela, fuori dalla Sicilia e oggi queste scuole, grazie a questa corretta individuazione che i presi della scuola hanno voluto attuare, sono stati assunti. Il nostro istituto ha la vocazione del marketing perché è un suo tecnico commerciale e si occupa proprio di queste cose. Il contributo del professore è molto importante quest'oggi perché diciamo che aiuta la nostra offerta formativa ad aggiornarsi, perché lui parlerà appunto di marketing, di imprese, aziende. Oggi come oggi il marketing è fondamentale per la gestione delle aziende e delle imprese perché offre la possibilità ai ragazzi di poter costruire un'azienda e quindi trovare strategie per capire quali sono i bisogni della collettività, esprimerli in un bisogno attraverso un prodotto e trovare quindi tutte le condizioni per far sì che questo prodotto venga commercializzato, diffuso e portato ai clienti.